Ben ritrovati con l'informazione di Antenna Sud, il Tg di approfondimento dedicato qualche giorno fa, appena qualche giorno fa si è celebrato in tutta Italia il 25 aprile, e quello che è la festa di liberazione, una festa che rappresenta un modello di svolta proprio nella storia italiana, ed oggi lo chiedo al presidente dell'Ampi di Francavilla Fontana, ma è l'Ampi rappresentata in quelle che sono le celebrazioni del 25 aprile in tutta Italia, chiedo all'Alessandro Rodia, con il passare del tempo queste celebrazioni di fatto tendono a perdere, secondo alcuni osservatori, un significato, il proprio significato, e anche il 25 aprile corre questo rischio, e così Alessandro? Io penso che il significato della lotta di liberazione, liberazione dagli invasori tedeschi, alleati dai fascisti della Repubblica di Salò, è attualissima, perché fu la liberazione dalla dittatura, una dittatura che era durata 20 anni e che era l'epilogo della guerra che era stata scatenata da Hitler e da Mussolini ed è la seconda guerra mondiale che ha visto milioni di persone perdere la vita. Dobbiamo partire da qui per comprendere sino in fondo le radici per cui oggi noi siamo, anche in questo momento, liberi di esprimere la nostra opinione e di confrontarci. Ecco, vediamo nelle immagini il garofono rosso, il garofono rosso che è il simbolo della resistenza ma anche della libertà. Qui nell'immagine ovviamente del 25 aprile avete dedicato a due partigiani di Francaville, un partigiano politico Antonio Somma, Donato Della Porta, e poi alla sindaco socialista, ma antifascista Cesare Torefilato, avete fatto la deposizione di questo garofono rosso che è il simbolo proprio della resistenza. Noi a Francaville abbiamo ricordato e onorato le figure che hanno dedicato la propria vita per la libertà e per costruire la Costituzione, ma dobbiamo sottolineare in pochissime parole che tanti meridionali hanno combattuto nella guerra di liberazione. Quindi tante famiglie meridionali hanno e sono state segnate da questa esperienza. Quando parliamo della libertà è attualissima perché in tante parti del mondo oggi la libertà che abbiamo noi non c'è ed è stato frutto di quella battaglia in cui dovremmo riconoscerci tutti, perché oggi il concetto di fascismo e antifascismo dovrebbe portarci a considerare che la Costituzione, dico soltanto due parole, il primo articolo della Costituzione è una Repubblica democratica, quindi non dittatura, perché non dobbiamo dimenticare che venivamo da 20 anni dove la libertà era stata calpestata, il diritto all'espressione non esisteva, le persone che la pensavano in un certo modo, quindi gli antifascisti venivano incarcerati, torturati, mandati al confino. Quindi la Costituzione che ha radici nella lotta di liberazione e nella resistenza è attualissima. Ecco io voglio utilizzare una parte dell'intervento del Presidente della Repubblica a Civitella in Val di Chiana, l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella qui sullo sito del Quirinale, leggo testualmente il 25 aprile, è per l'Italia una ricorrenza fondante, la festa della pace e della libertà ritrovata e del ritorno nel novero delle nazioni democratiche, quella pace e quella libertà che trovando radici nella resistenza di un popolo contro la barbarie nazifascista hanno prodotto la Costituzione repubblicana in cui tutti possono riconoscersi e che rappresenta garanzia di democrazia e di giustizia, di saldo, di niego, di ogni forma o principio di autotarismo o di totalitarismo. E aggiunge il Presidente della Repubblica Mattarella, utilizzando parole pronunciate da Aldo Moro nel 1975, che intorno all'antifascismo, scrive e ha dichiarato appunto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è possibile e doverosa l'unità popolare, senza compromettere d'altra parte la varietà e la ricchezza della comunità nazionale, il pluralismo sociale e politico, la libera e mutevole articolazione delle maggioranze e delle minoranze nel gioco democratico. Questo appunto è il succo dell'intervento del Presidente della Repubblica che cita proprio la Costituzione. Tutti gli italiani dovremmo riconoscerci in queste parole del Presidente della Repubblica che dovrebbe essere il manifesto su cui ogni giorno l'Associazione Ampi, ma tutti i partiti, tutte le associazioni, ogni giorno dovrebbero muoversi e agire in conformità con questi principi, perché non dobbiamo dimenticare che ci sono i principi della solidarietà, dell'uguaglianza. Quando noi oggi parliamo di uguaglianza, per le dittature non ci sono uguaglianze, ci sono le discriminazioni, ci sono i serprusi, c'è l'arbitrio, c'è una persona viene arrestata, viene messa in carcere senza alcuna ragione. Quindi noi riteniamo che le parole del Presidente della Repubblica dovrebbero aiutare tutti gli italiani a riflettere un po' di più su quell'albero rigoglioso con tanti frutti che è la nostra Costituzione. Ecco, lo stesso Presidente della Repubblica dice a migliaia uomini, donne, religiosi, funzionali dello Stato, operai, borghesi, rischiando la propria vita e quelle dei loro familiari, si opposero alla dittatura e alle violenze sistematiche, nascondendo soldati alleati, sostenendo la lotta partigiana, falsificando documenti per salvare ebrei dalla deportazione, stampando e diffondendo volantini di propaganda. Fu la resistenza civile, la resistenza senza armi. La resistenza civile che ha visto come protagoniste le patriote partigiane che hanno non solo avuto il ruolo di essere le staffette, cioè coloro che portavano i messaggi o gli ordini da una parte all'altra, ma dobbiamo onorare tante donne partigiane combattenti che hanno scelto di non stare nelle proprie case, ma quella di combattere per costruire una società diversa, perché non dobbiamo dimenticare che le donne patriote partigiane hanno dovuto combattere anche all'interno delle formazioni partigiane, perché la cultura è quella fascista e patriarcale e le donne, grazie al 2 giugno 1946, per la prima volta hanno avuto il diritto, non gli era regalato nessuno quel diritto, ma se lo sono conquistate ogni giorno combattento per poter avere il diritto al voto. Ecco, lo stesso Presidente della Repubblica nel suo intervento a Civitella in Val di Chiavana dice la resistenza appunto senza armi, un movimento largo e diffuso che vide anche la rinascita del protagonismo delle donne, sottratte finalmente al ruolo subalterno cui le destinava l'ideologia fascista e la resistenza nelle sue forme così diverse contribuì in misura notevole all'avanzata degli alleati e alla sconfitta del nazifascismo poi rivolge anche il suo pensiero ai circa 350.000 soldati venuti da paesi lontani, morti per liberare l'Italia. Ecco perché l'Italia, sulla base delle cose che leggevi e soprattutto i giovani e le ragazze devono conoscere ancora di più la nostra Costituzione, che entrò in vigore il 1 gennaio 1948 la Costituzione ha 76 anni ma non è una carta stracciata, non è una Costituzione vecchia è una Costituzione viva e consente a tanti ragazzi e io che di volta in volta incontro gli studenti riesco a percepire il loro entusiasmo quando riusciamo a coinvolgerli, a renderli protagonisti perché sono una miniera inesauribile di energie, tocca a noi stimolare le corde giuste. Ecco qual è il senso oggi delle iniziative del 25 aprile, oggi che viviamo periodi difficili con i conflitti in atto? Intanto l'attualità del 25 aprile è quella di ribadire, come noi abbiamo fatto a Francavilla ma in tante parti d'Italia, è quella di ribadire l'articolo 11 della Costituzione che parla di riputiare la guerra come strumento di offesa verso gli altri popoli. Quindi tanti movimenti non violenti perché la violenza è da bandire perché noi abbiamo una grandissima e ricca Costituzione che consente a tutti di organizzarsi in associazioni, in movimenti, in partiti ma non usando la violenza. Quindi la situazione europea che è diventata ed è tornata a scenario di guerra ma in tante parti del mondo, come dice il Papa Francesco, è una terza guerra mondiale a pezzi. Quindi il 25 aprile è importantissimo per ribadire che i popoli possono vivere in pace. Ti dico l'ultimo dettaglio, è stata una grandissima emozione sentire, leggere ad un bambino delle scuole elementari, la poesia di Bertolt Brecht, i bambini giocano alla guerra. Quindi la piena consapevolezza che già da bambini si può educare alla pace e non alla guerra. Il Presidente della Regione Toscana dice a proposito del senso, del significato delle iniziative, delle celebrazioni del 25 aprile, il 25 aprile è soprattutto una grande responsabilità collettiva, consapevolezza che libertà e democrazia non sono doni, ma conquiste raggiunte con la lotta. E quindi è un patrimonio collettivo da presidiare e mantenere costantemente attivo. Anche con il coinvolgimento di giovani, vedo anche diversi giovani in Italia che aderiscono all'AMPI, all'Associazione Nazionale Partigiana. A Francavilla ci sono tantissimi giovani che sono parte importantissima dell'AMPI, ma io vorrei aggiungere a quello che leggevi, non dobbiamo perdere di vista che i resistenti o i partigiani non sono solo quelli che hanno combattuto la lotta di liberazione dal 43 al 45, ma dobbiamo ricordare e onorare, perché sono stati coperti dall'oblio, soprattutto nel meridione, tante figure che non erano solo intellettuali, operai, contadini, muratori, che per essere antifascisti hanno subito il carcere ed il confino. Noi abbiamo il dovere di restituire alla memoria queste figure, ma non per parlare semplicemente del passato, ma per conoscere fino in fondo le radici profonde della nostra democrazia e della nostra libertà. Ecco, possiamo dire in conclusione Alessandro Rodio, Presidente dell'AMPI, che festeggiare il 25 aprile non è dunque vuota retorica. No, è la festa, non dobbiamo dimenticare, è la festa nazionale, la festa di tutti, quindi è una festa a cui tutti devono concorrere da protagonisti e non da semplici spettatori, devono rivivere e devono incarnare i valori fondanti della nostra Costituzione che ha le radici profonde nella lotta di liberazione e nell'antifascismo che inizia dal 1919, non dobbiamo mai dimenticarlo, le prime squadre fasciste che bruciavano le leghe contadine, che picchiavano e non dobbiamo dimenticare, in questo fra un mese ci sarà il centenario della morte di Matteotti, ma i pugliesi non devono dimenticare che nel 1921 Giuseppe Di Vagno, socialista, deputato, detto il gigante buono, fu ammazzato a mola di Bari, da squadre fasciste. Il primo omicidio importante politico in Italia è avvenuto in Puglia, Giuseppe Di Vagno. E con queste riflessioni del Presidente dell'AMPI di Francavilla Fontana, Alessandro Rodi, abbiamo parlato in generale del significato attuale, attualissimo del 25 aprile, che è come rendere vivo non soltanto il ricordo, le celebrazioni, quello che è avvenuto, ma il senso è anche riscoprire il valore di questa giornata, portandola proprio nella propria vita quotidiana. Io chiudo lo spazio dedicato appunto a questo approfondimento, abbiamo voluto sottolineare a pochissime ore, possiamo dire, dalle celebrazioni del 25 aprile, proseguiamo il nostro Tg, congediamo Alessandro Rodia.